salve a tutti ciao a tutti oggi stiamo per fare il video al contrario dove lei vi rilascio il suo canale mi trucca l'abbiamo fatto già sul suo dove io ho truccato lei e ora facciamo il contrario allora la pratica scelta è questa qua la che cos'è questo? forever flawless di revolution aiuto allora aspetta iniziamo a mettere il primer che sennò usiamo questo correttore di essence che mamma mia fortunatamente adesso ce l'ho anch'io allora lo stendo con questo ma tu come lo stendi ho l'obiettivo l'entremai ora ma bene allora io mi alzo mi inizia a ridere che sennò questi video non escono poi lo sai con ci tagli devi fare ok considerate il fatto che quando mi truccano io lo odio che nelle sfilate fettevo sempre andate tutti andate tutti poi sono ammazzati i trucchi no sono già truccata infatti gli altri si ammazzavano per farsi truccare io è un privilegio truccarti allora iniziamo da questo colore meraviglioso che è asteroidi questo qua solo per uniformare la palpebra usiamo gergo tecnico perché qua siamo professional ok se no fai gli ombretti poi ok a posto io trucco prima gli occhi e poi la base non so come fai tu però usiamo un pennellino più piccolo vado con mars bellissimo questo colore questo qui oggi ti trucco con i miei colori preferiti io non esprimo giudizi bravo vai bene se sono veloce con te come lo sono con me perfetto allora che poi abitiamo molto vicine ma non riusciamo mai ad incastrarci e a fare qualcosa insieme quindi è un record anche questo ma nella vita ma dove abitate no no lontanissime neanche 5 km lontanissime 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 ammazza il fallout sta cavolo di palettes è tantissimo pure sugli occhi un casino metterò anche il tonato viola che tu ci credo no ma il blu non lo so non lo so non lo so ah no con i salvietti poi è stroccato allora metto questo qua per mettere il shimmer tu quali usi? allora dove 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 ho questo oppure quello in silicone che ti sei suicidato? pure io non lo trovo l'ultima volta lo so no ecco che apposta non cadere grazie questo deve eliminare è difficile da sempre per tornare ah io l'ho come spolvero anche che è tutto a posto tutto a posto vediamo di ricomportare grazie dopo sto qui ce la faccio dare no mamma mia aspetta perché qua secondo me è proprio la grana di sto coso che no te la metto con le dita mi sono proprio la grana dell'ombretto grossa qua ci vuole di nona o l'evoluzione proprio la grana dell'ombretto è spessissima quando sono così solo le dita tengono non si mette questo che è successo che sta succedendo qua ti sta emozionando la ragazza gli ombretti stanno emozionando sai proprio non sai che vuol dire sembra che non attacca sembra che non attacca sembra che non attacca io oppure il frango è già messo ok già così ti di le salviette quali sono? aiuto questo mi pulizzo mi pulisco mi prendo le mani facciamo questo prendere la sfumatura ti ti prendiamo questo allora joker mi fa un buff bellissimo sembra che t'hanno ammazzato t'hanno scannato tanto ci manca solo quello siamo al completo infatti direi che ce l'abbiamo tutte dopo di questa sembra più pigmentato quando te l'ho messo cioè in cialda sembra più pigmentato poi che poi vado a mettere tutti i residui di poi lo trovi poi un pennello piatto che ti voglio fare la riga di eyeliner dato che io l'eyeliner non trovo vieni con me vieni con me ti porterò un pennello no questo oro è bellissimo questo oro è stupendo ma è la texture però diversa vedi non è come questo ci vuole il pennellino vediamo questo speriamo no questo vedi non spolvera neanche qua quando lo prendi proprio uniforme un po' la texture di revolution che spolvera tantissimo io ho messo insieme i colori improponibili non ci farei caso infatti adesso ti metterò un bel viola un bel blu i ricaldi colori vreddi non esistono con me ciao ciao ok... acqua cerco lì canello piatto canellino Questo è del blush e si mette qua dentro, ovviamente il blu sembra viola, siamo consapevoli di questo, ma meglio perché i concetti nerviore sono anche se sono, no, che dico, no, non ci piace mai niente. Grazie. 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 Adesso prendo questo tipo, guardo gli occhi, addio Joker, ti mancherà il commetto, ti che manchera tantissimo bello mi stai prendendo pure io no, non lo faccio mai io poi così le liner con gli ombretti ma comunque a rocco sto colore si io lo uso però sta bene per il blu oh mio dio madonna mia la make up artist sono diventata make up artist aspetta che devo sfumare dai dai ok 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 i amy Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. No, infatti è questo il bello di fare i video, no? Come lei non taglia i suoi... Aiuto! Io non taglio i miei... Proprio a me... Non sono tecnologica, non voglio tagliare niente. Il bello di non essere in diretta, scegliere di non tagliare le parti. Dai, ci vuole, ci vuole un po' di allegria. Torniamo la fondotinta. E' una bambina. Ma quando ce l'hai questa fossetta? Non te l'ho mai vista. La vecchiaia, sto vecchiando. Alza l'occhio. Questa pure io ce l'ho, sai come è spennente? Ma ho preso quella... La Beauty Blender in microfibra. Io vedo come che dicono che assorbe, a me non vedo l'altro. Eh, dicono che è buona, sai? Quando mi arrivo. Ah, ti ho ucciso? No. Non c'è tanto. Non avevo manco fatto caso che dovevo avere un piercing con tutto questo. Se ne sono accorti quelli che mi hanno fatto il tampone, che ogni volta, no, oddio, ti faccio male. Eh, tagliare. Lo vuoi un altro tampone? No. Ti dì. A posto, mettiamo il fondotinta. Che è un po' chiaro, tra l'altro. Però poi con il bronzo le cose funzionano. Noi ce la facciamo andare bene. Questo per fissare la cipria. Bellissimo. Ok, io lo faccio. No, vabbè, non è tanto chiaro di spazzuola. Spalmolo. Sì, lo paghiamo dopo. To be continued. To be continued. Ti. Grazie. Grazie. Grazie a tutti. 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 No, si vede nel video che a un certo punto suonavo il telefono. No, allora era l'altro video. No, l'altra volta sì. Mi stavo truccando, però era l'altro motivo. Aspetta che così è troppo... Aspetta perché stai venendo... Ok, metto il blush, sempre con questo lo metti? No, il blush, il blush dove si è andato con questo... Ok, tutto a posto, stai prendendo la mia scena, mi raccomando... Io non lo metto mai con quello... È pure satinato questo... Ay, è pure satinato questo. aspetta beh, da specificare che è quello di Essen allora lo sanno perchè li sto facendo la testa così questa cosa ok allora no ah già io lo metto con le occhie chiusi come cazzo lo fai? come fai? poi me lo spieghi? ok uso questo però se vuoi questo è sanno lo so poi cacchio hai fatto a scavarlo questo? ho metto 3 kg tu una matita non te la metti sotto? come cacchio fai a fare i bordi precisi? io non riesco fa così? no? normale? ok bravo no no non riesco a fare i bordi precisi non riesco a fare i bordi precisi ok ok adesso tutto bene sto respirando ancora ok allora te l'ho messo stavo peggio stavo peggio aiuto ok sotto c'è un non riesco a fare i bordi precisi 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 come maschera tu che metti? tu che metti? ah scusi mi scusi il mio fantastico inimitabile è flash princess io ho preso quello viola sai adesso si l'ho preso no no questo oppure questo che è quello no questo che poi tra l'altro adesso ti sei messo la mascara quindi molto bene ecco infatti la versione panda la versione panda eccoci allora ho 30 minuti di video stacco e ve lo faccio vedere da vicino ecco il make up qua devo pulire il mascara però vabbè molto molto bello ci piace anche l'eyeliner così blu che io non lo metto mai con gli ombretti l'eyeliner un ringraziamento speciale a Francesca e al prossimo video ciao